E' quello che volete, non segnete i suoi suggerimenti, vi distraete durante gli allenamenti, vogliamo perdere o vogliamo vincere? Non so cosa dirvi davvero, tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale, tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Vogliamo continuare a perdere? In questa squadra si combatte per un centimetro, in questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale all'ora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza tra vivere e morire. Ascoltiamo il mister? Se gli apri! Ma è importante che lo ascoltate durante gli allenamenti, perché quello che lui dice di fare tra gli allenamenti è quello che fate in campo. Sono in campo, ho il colaceto sotto ombre. Allora ci impegniamo? Sì! Che cosa volete fare? Vogliamo continuare? Sì! Grazie!